Vi prometto che non sono stato al pub a prendere qualcosa da bere, sono semplicemente alla macchinetta per prendere un po' di acqua. E ora con la gola rinforzata vado avanti con le quote di Serie B. Cominciamo con le partite di domani pomeriggio e cominciamo con due partite abbastanza equilibrate. Cittadino-Crotone con la squadra di casa favorita a 2.40, il pareggio a 2.90 e Crotone a 3.20. Poi vediamo quasi le stesse quote per Latina-Brescia, ma invertiti. Cioè Brescia è favorito quotato a 2.40, il pareggio a 3 e Latina a 3.10. Ora andiamo in Emilia-Romagna dove c'è Modena-Padova che ci aspetta. E qui vediamo la squadra di casa quotata a 2 in favorito, con il pareggio a 2.95 e Padova a 4.25. Non ne abbiamo offerto la scommessa, ma purtroppo credo che se abbiamo offerto la scommessa che Gattuso durerà fino alla fine della stagione, la quota sarebbe stata altissima, quindi forse è meglio che non abbiamo offerto, che tutti avrebbero giocato all'annatore e no. Quindi è andato bene, diciamo. Ma torniamo alle 20 nello stadio e Palermo andrà avanti giocando in casa contro Juve Stabia. E il favorito è quadrato 1.55 con il pareggio a 3.60 e Juve Stabia a 6.50. Ora abbiamo due neopromossi che giocano in trasferta, Carpi a Reggi a Reggio Calabria e Trapani a Siena. Entrambi sono quote abbastanza alte per queste due trasferte, è abbastanza difficile. Vediamo Reggine favorito contro Carpi a 1.80 con il pareggio a 3.25 e la squadra emiliana a 4.75. E Siena in casa a 1.65 contro la squadra siciliana con Trapani a 5.25 e il pareggio a 3.60. Spezia e Navara secondo me sono due squadre che stanno puntando verso la Serie A. E vediamo una bella partita con quote abbastanza equilibrate da mani. Con Spezia favorito a 2.45, il pareggio a 3 e anche Novara a 3. Anche i Varesi sta puntando alto e ha iniziato benissimo la stagione. E vediamo favorito in casa contro Ternana, quotato a 1.85 con il pareggio a 3.10 e gli Umbria a 4.75. Quattro non la classifica ora, forse la sorpresa una della stagione fino ad ora è stata Lanciano. E sono favoriti in casa contro Bari domani, ma non tantissimo perché la squadra di casa è quotata a 2.45, il pareggio a 3 e anche Bari a 3. Poi è una lunedì sera molto piena delle partite, perché insieme a Fiorentina Parma c'è anche Avelino Empoli e Cesena Pescara. La Capolis Empoli va in trasferta a Avelino e favorito a 2.30, con il pareggio a 3 e Avelino a 3.30. Mentre concludiamo con Cesena Pescara e qui vediamo le quote un po' più equilibrate. Scusate, con Cesena è quotato a 2.40, il pareggio a 3 e Pescara a 3.10. Per ora di tutto, se non avete capito il mio pronuncio, che il tema oggi è stato peggiore che al solito, collegatevi a www.snai.it per capire un po' delle cose che ho detto e lì troverete anche le quote molto più aggiornate e molto più fresche. Ciao a tutti, ci vediamo la settimana prossima per altre quote vincente. In bocca al lupo a tutti! Grazie a tutti!